Anci Calabria rinvio al 31 marzo fumata nera alla mezzia terme, i sindaci calabresi non trovano l'accordo, due i nomi che erano in lizza, quello del primo cittadino di Vibo Valencia Maria Limardo per il centrodestra e quello del sindaco di Cosenza, Franz Caruso per il centrosinistra. Nuovi ingressi e fibrillazioni attesa per la prossima seduta del Consiglio regionale centrodestra a saldo ma serpeggiano malumori, attenzione per le mosse di azione che potrebbe arrollare dopo Giuseppe Graziano e Francesco Denisi, altri consiglieri regionali. Ieri Antonello Talerico, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia, ha vinto il ricorso contro Valeria Fedele, cui subentrerà nell'assise di Palazzo Campanella. Smantellato giro di droga con minorenni coinvolti, blitz dell'arma dei carabinieri nel Soveratese contro un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti con piazze di spaccio in diversi comuni, otto gli arrestati, undici complessivamente gli indagati. Tragedia occultata per troppi anni nel giorno del ricordo per le vittime delle foib, il presidente della regione Roberto Occhiuto invita alla riflessione. A Cosenza, intensa cerimonia della Polizia di Stato che ha ricordato il questore Giovanni Palatucci, morto 78 anni fa in un campo di concentramento. Nuova edizione del nostro telegiornale in apertura, l'Assemblea regionale del Lanci Calabria alla mezza terme. I primi cittadini della nostra regione erano chiamati ad eleggere il presidente dopo due parentesi particolarmente caotiche, quella guidata da Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo e poi quella guidata da Marcello Manna, sindaco di Rende. Ora, i primi cittadini sono stati convocati stamane alla mezza, l'Assemblea, lo diciamo sin da subito non è stata semplice, nel senso che due erano i candidati in corsa, ma moltissimi sono stati i tentativi di trovare l'unità. I due candidati in corsa erano il sindaco di Vibo Valencia, Maria Limardo, in quota centrodestra, a quello di Cosenza, Franz Caruso, in quota centrosinistra. Sentiamo come è andata. Nulla di fatto all'Assemblea regionale di Anci Calabria. L'assise dei sindaci calabresi convocata stamane alla mezza terme si è conclusa con un rinvio, prima al pomeriggio e poi definitivamente aggiornata al 31 marzo. Secondo quello che si è appreso si sarebbe cercata anzitutto una soluzione unitaria che superasse la contrapposizione tra i due candidati alla presidenza dell'Associazione dei Comuni Calabresi. Il sindaco di Vibo Valencia, Maria Limardo, di Forza Italia, e il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, espressione del centrosinistra. La mediazione però non ha sortito effetti sperati. Ammettersi di traverso rispetto all'Assemblea sarebbero stati essenzialmente gli amministratori di area PD. In sostanza non ci sarebbe stato accordo sul far votare un consistente gruppo di sindaci che solo nei giorni scorsi ha regolarizzato l'iscrizione a Lanci. Per dirimere la questione è stato convocato il Comitato Direttivo Regionale del Lanci, che ha convenuto per il rinvio al 31 marzo considerata la sostanziale impraticabilità di campo. Stiamo sempre sui temi della politica ma ci spostiamo a Reggio Calabria ed in particolare nella sede del Consiglio Regionale che per la verità non si riunisce da un po' di tempo. Una sola l'ha seduta nel corso del 2023 peraltro per adempiere ad un obbligo istituzionale, cioè la surroga degli eletti al Parlamento. Ci sono fibrillazioni nel centrodestra, muta nuovamente la geografia del Consiglio Regionale perché c'è un nuovo consigliere che ha vinto e diventa consigliere perché ha vinto un appello contro Valeria Fedele. Ma facciamo il punto nel servizio. Sono due le circostanze che rendono evidente come nel 2023 i passi del Consiglio Regionale siano stati lenti. Fino ad oggi una sola seduta è per un obbligo le surroghe degli eletti al Parlamento. La prossima riunione di Palazzo Campanella sarà, stando ai rumors, intorno al 20 febbraio. Nel frattempo è di nuovo cambiata la geografia di Palazzo Campanella, come se non bastassero i nuovi equilibri nella maggioranza di centrodestra e all'interno dei partiti che la compongono dopo le elezioni politiche dello scorso settembre. Altri elementi hanno richiamato l'attenzione. Intanto la nascita di azione, formazione costituita in consiglio da Giuseppe Graziano, precedentemente capogruppo dell'Udc, e da Francesco Denisi, precedentemente capogruppo di Coraggio Italia. In discrezioni raccontano di possibili nuove adesioni. Ieri poi la notizia a Palazzo Campanella di Antonello Tallerico, primo dei non eletti in Forza Italia, che ha vinto il ricorso contro l'azzurra Valeria Fedele. Tallerico, in rotta con i vertici di Forza Italia da tempo e che a Catanzaro sostiene l'esperienza di centrosinistra guidata da Nicola Fiorita, dovrebbe tuttavia approdare nella maggioranza. Passiamo ora alla cronaca, chiudiamo questa pagina d'apertura dedicata ai temi istituzionali e politici. Operazione stamane portata a termine dai carabinieri nel Soveratese. 11 complessi gli indagati, 8 gli arresti eseguiti, smantellato un traffico di droga che vedeva coinvolte anche persone minorenne. I carabinieri della compagnia di Soverato, supportati in fase esecutiva da quelli dei comandi territorialmente competenti, hanno eseguito stamane a Guardavalle, Isca sullo Ionio, Monte Paone, Gasperina, Montauro, Monasterace, Serra San Bruno, Mugnano di Napoli, Torino e Bordighera, tre distinte ordinanze di misure cautelari nei confronti di 11 soggetti indagati rispettivamente dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Degli 11 indagati, 4 sono stati raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere, 4 sono destinatari della misura degli arresti domiciliari e per gli indagati minorenni, 2 da collocare presso comunità ministeriali per i minorenni, 1 presso un istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Gli elementi indiziari acquisiti hanno riguardato un presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti del tipo marijuana e hashish con piazze di spaccio in luoghi pubblici dei comuni del Soveratese, canali di approvvigionamento dello stupefacente a Guardavalle e Serra San Bruno e luoghi di occultamento collocati in 4 depositi Isca sullo Ionio, Petrizzi, Serra San Bruno e Monte Paone. Sempre con la cronaca il Tribunale di Costanza ha pronunciato la prima condanna per appartenenza alla drangheta emessa in Germania e quanto ha riferito l'emittente radio televisiva MDR aggiungendo che il condannato è un cameriere nato in Italia, riconosciuto colpevole di traffico di droga e sostegno ad un'organizzazione criminale straniera. L'uomo è stato arrestato nel maggio del 2021 nell'ambito dell'operazione Platinum Dia condotta dalle autorità di Germania e Italia. L'obiettivo in quel caso erano i Giorgi detti Bovinciani, un clan dell'andrangheta di San Luca. Con la condanna del Tribunale di Costanza sarebbe dunque la prima volta in cui la presenza dell'andrangheta viene attestata in via giudiziaria e messa evidentemente nero su bianco in Germania. E da proposito di contrasto alla criminalità organizzata diamo conto di una iniziativa dall'alto valore simbolico. Sarà infatti inaugurato lunedì mattina a Catanzaro il centro operativo della direzione investigativa antimafia. Alla cerimonia parteciperà il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. L'evento si terrà in videocollegamento con i centri operativi della DIA di Bologna e Brescia che verranno contemporaneamente inaugurati. Cambiamo argomento. Si celebra oggi il giorno del ricordo dedicato, come sapete, alle vittime delle foibe. Il presidente della regione, Roberto Occhiuto, ha inviato una nota nella quale rinnova la commossa memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati dalle loro terre. Le stime, ha aggiunto Occhiuto, parlano di più di 10.000 persone uccise. Un pezzo di storia amarissima, ha concluso il presidente Occhiuto, per troppi anni occultato, che lega il nostro paese alla guerra, ma che oggi deve rappresentare un importante momento di riflessione affinché quegli orrori non si ripetano mai più. Ed a Cosenza, proprio in questa giornata particolare, intensa cerimonia della Polizia di Stato che ha scelto di ricordare il questore Giovanni Palatucci, morto 78 anni fa in un campo di concentramento. Esperti da tutta Italia sono arrivati a Cosenza per puntare riflettori sul progetto già avviato nel territorio riguardante la telemedicina e l'impiego nei casi di pazienti diabetici, cardiopatici e affetti da problemi respiratori. Ai lavori ha partecipato, tra gli altri, anche l'onorevole Simona Loizzo, componente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. Per la Loizzo è evidente l'importanza cruciale di avere soluzioni tecnologiche e digitali a supporto della salute pubblica e dell'assistenza sanitaria in tutti i setting assistenziali. Quanto riguarda la medicina del territorio, devo dire che l'applicazione di M77 è fondamentale, cioè cominciare a lavorare sul territorio in termini di centrali operativi e territoriali, ospedali di comunità e case della comunità sarà realmente il cambiamento perché il Covid ci ha dimostrato come un'inefficienza del territorio possa avere un effetto deflagrante sulla sanità pubblica. Devo dire che per quanto riguarda invece i progetti digitali io sono a capo dell'intergruppo della sanità digitale della Camera che sta avendo un successo straordinario e quindi nelle prossime settimane parleremo di telemedicina, teleassistenza e di come veicolare il PNRR dal governo fino ovviamente al soggetto attuatore che è la regione in termini di sanità digitale. Voltiamo nuovamente pagina, ci occupiamo di temi locali ma che per la verità, per la loro sostanza hanno una valenza regionale. Andiamo a Crotone dove è stato detto un no chiaro e categorico rispetto al progetto di Eni Rewind di smaltire i rifiuti presenti nella passeggiata degli innamorati all'interno dell'ex Pertusola Sud. Un no netto quello espresso dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce alla proposta di variante presentata da Eni per la realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti da realizzare all'interno del sito ex Pertusola spostando così di pochi metri i rifiuti delle ex discariche a mare. Durante la conferenza dei servizi istruttori ha convocato dal ministro dell'ambiente il rifiuto del primo cittadino supportato dalla sua amministrazione e dal Consiglio Comunale ma soprattutto da valutazioni tecniche che sottolineano il diritto della comunità cittadina di avere una bonifica reale dei siti inquinati dopo anni di attesa finora inutile. Allora la proposta di Eni è quella di non portare i rifiuti fuori regione e di abbancarli in questa discarica di scopo. La chiamano discarica di scopo, impianti di confinamento ma si tratta di una discarica per rifiuti pericolosi. Questo è bene che tutti lo sappiano. Una discarica che riteniamo in un posto pericoloso a poche decine di metri da un sito archeologico e quindi c'è una valenza archeologica. È difficile che facciano questi impianti di confinamento. Eni porta avanti la tesi che le ha già fatte questi tipi di scariche di scopo in altri posti tipo a Gela. Ma qui il posto non è sicuramente idoneo. E poi è stato chiuso un accordo. Io ho detto in maniera chiara ad Eni una cosa. Se gli enti locali non sono obbligati ad accettare questa proposta di variante è invece obbligata a bonificare. C'è un obbligo che è previsto dal decreto. Altrimenti qui vuol dire che tutte queste conferenze dei servizi non servono a nulla se si deve ricominciare punti a capo dopo due anni. Dicevamo di temi affrontati localmente ma che hanno una valenza evidentemente regionale. Siamo stati a Corotone con il tema della bonifica e dei rifiuti. Ci spostiamo ora a Cosenza cambiando radicalmente prospettiva. Parliamo di sanità ed in particolare di un interessante incontro dedicato proprio all'approfondimento del ruolo della medicina territoriale e digitale. La polizia di Stato ha ricordato Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, che per salvare centinaia di ebrei dalla Shoah fu imprigionato nel campo di concentramento di The Show dove morì di stenti il 10 febbraio 1945 all'età di 36 anni. Oggi alla presenza del questore di Cosenza Michele Maria Spina si è tenuta la cerimonia di commemorazione che ha come proposito quello di rinnovare il ricordo di un valoroso servitore dello Stato e allo stesso tempo coinvolgere le nuove generazioni a mantenere viva e pulsante la memoria di quanti a rischio della propria vita e senza alcun interesse personale. Hanno agito in modo eroico con il solo intento di salvare anche solo una vita umana in ragione del rispetto di una legge morale radicata nel proprio animo. È il ricordo della tragedia della barbarie delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata e quindi è un giorno importante ma è anche per noi l'anniversario della morte di Giovanni Palatucci che è morto 78 anni fa nel 1945 a soli 36 anni dove era stato deportato a Dachau e morto di stenti pochi mesi prima della liberazione. Giovanni Palatucci era un funzionale di polizia, noi qualche giorno fa abbiamo commemorato anche la figura di Angelo De Fiore, un altro funzionale di polizia e Palatucci ha dalla sua posizione constatato la barbarie della Shoah e quindi ha fatto di tutto per aiutare le persone e ha salvato 5.000 ebrei dalla deportazione e dalla morte. Rimaniamo sempre a Cosaenza, andiamo al Museo dei Bretti e degli Enoteri per la presentazione di un libro scritto da Antonio Salviati, un libro che contiene nelle sue pagine una storia particolare e che in qualche modo si riconnette a quanto abbiamo ascoltato poco fa in relazione alla commemorazione fatta dalla polizia di Stato a Cosaenza. Una storia particolare dicevo, sentiamola. È un nitido pomeriggio del maggio del 1940, dalla porto di Bratislava tra l'incredulità degli stanti salpava il Pencio, un battello fluviale costruito in Scozia e registrato in Italia che da semplice rimorchiatore diventa l'unica possibilità di salvezza per 520 ebrei in fuga con destinazione, la terra promessa. Quella che racconta il magistrato scrittore Antonio Salvati nel suo romanzo Pencio è una storia dura, cruda, rocambolesca, di slancio, di avventura e di grande umanità. Un sorprendente sordio narrativo presentato a Cosenza nel Museo dei Bretti e degli Enotri. Acquistano un battello scalcagnato dal nome molto particolare Pencio, un nome molto buffo, sembrano starnuto dice a un certo punto uno dei personaggi, puntano verso la Palestina ma finiscono incredibilmente a Ferramonti in Calabria dove c'era il più grande campo di prigionie per ebrei stranieri d'Italia. È una storia realmente accaduta e basata anche sulle ricerche storiografiche di Enrico Tromba che mi ha regalato i dati anagrafici dei personaggi sui quali ho imbastito un po' di riflessioni romanzate. Ogni capitolo ha il nome di una persona realmente esistita che è stata veramente sul Pencio, è stata veramente a Ferramonti, ha purtroppo veramente sofferto quello che hanno sofferto i profughi del Pencio e in più c'è il tentativo da parte mia di ricordare, di riportare la memoria con il nome e quindi anche la dignità e del ricordo di queste persone e di quello che hanno dovuto attraversare. E chiudiamo con lo spettacolo ed in particolare con la presenza e le performance artistiche del maestro orafo Michele Affidato che è in questi giorni impegnatissimo in quel di Sanremo. Michele Affidato ha realizzato i premi AFI consegnati ad alcuni big della musica italiana. Oggi vivo questa grande emozione, potermi trovare con i cucini di campagna, la musica che ha accompagnato la mia adolescenza, veramente per me è un grande onore e vi ringrazio. Poi con i chi sono attraverso i social anche amico, quindi ci sentiamo quindi grande lì oggi poterti rincontrare. Grazie. Grazie a voi. Il premio meraviglioso di Michele, ma Michele Affidato li ha realizzati tutti i premi alla carriera per l'AFI. Io ieri ero in piedi all'Ariston ad applaudire i Poo, uno spettacolo meraviglioso, sono testimoni di una storia e di un valore della musica in Italia forse quasi unico. Quindi è assolutamente meritato, anche e soprattutto nell'anno in cui l'AFI compie 75 anni. Quindi i premi assegnati quest'anno hanno un doppio valore. E chiudiamo questa nostra edizione del telegiornale con le notizie relative alle condizioni climatiche. Nevicate abbondanti sopra gli 800 metri, con diverse aree interne della regione isolate e problemi di fornitura per luce ed acqua. Disagi mattinata anche per gli automobilisti in transito lungo la SS 107 in direzione di San Giovanni in Fiore. Questo lo scenario causato dalla forte ondata di maltempo che sta imperversando da giorni sulla Calabria. Le temperature restano a ridosso dello zero in quasi tutta la regione. Le province di Cosenza e Cordone sono quelle più colpite. Le previsioni tuttavia indicano un leggero miglioramento per la giornata di domani, ma in molti comuni si sta confermando la chiusura delle scuole per il terzo giorno consecutivo. Con questa notizia per ora è tutto, grazie come al solito della cortese e costante attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.